I vertici locali di Forza Italia si schierano a favore dell'avvio immediato di una breast unit rafforzata, che sia punto di riferimento per l'intero territorio. Il deputato regionale ARS Michele Mancuso e l'assessore alla sanità Nadia Gnoffo ritengono essenziale la presenza di una struttura sanitaria dedicata alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, in una città sversata da morti causate a patologie oncologiche. A tal proposito, secondo Mancuso, è inaccettabile che ancora oggi, dopo tanti anni e due false inaugurazioni, si parli di breast unit senza alcuna certezza. Per l'appunto è giunta l'ora di trovare delle soluzioni che diano speranze a tutte quelle donne che sono costrette a migrare al nord per ricevere le cure appropriate. La breast unit consente infatti di gestire il percorso del paziente con uno specifico training senologico che garantisce nel contempo l'applicazione di percorsi diagnostici appropriati. L'assessore Gnoffo, insieme all'amministrazione comunale, sta seguendo l'intero percorso burocratico e non si tira indietro nel rivendicare certezze. Abbiamo voluto manifestare massima attenzione verso questa tematica che come donna ho già detto e oggi come istituzione mi sta particolarmente a cuore. Sappiamo bene, i dati dimostrano, i dati scientifici dimostrano che una donna affetta da neoplasia mammaria, curata in un centro multidisciplinare, quale appunto la breast unit, ha una possibilità di guarigione pari al 18-20% in più rispetto a una cura presso altri gentri. Bene, noi sappiamo che a Gela è operativa già la senologia, la cura appunto del dottore Di Martino, ma che soltanto nel 2018 ha effettuato ben 266 prestazioni. Oggi noi manifestiamo massima attenzione, la nostra attenzione sarà elevatissima rispetto a questa tematica e sicuramente siamo fiduciosi che i dirigenti dell'ASP di Caltanissetta, la direzione strategica, prenderà i provvedimenti conseguenziali e opportuni che ci consentiranno di istituirla così come stabilito dall'assessore regionale Razza. Ad oggi abbiamo risposte positive da parte dell'ASP e adesso la direzione strategica si sta adoperando per far fronte a diverse problematiche, diverse esigenze e criticità che afferiscono l'ospedale di Gela, ma anche gli ospedali provinciali.